Qual è il risultato della manifestazione di oggi? Il risultato per noi è importante perché il lavoro fatto nelle scuole nei mesi precedenti ha prodotto i suoi effetti. Oggi qua ci sono molti ragazzi che hanno già lavorato su questi dinamiche da un punto di vista ambientale all'interno delle proprie scuole. Noi come Comitato abbiamo avviato con loro una serie di iniziative di laboratori nei mesi precedenti. Continueremo a farlo anche dopo questa manifestazione. Il futuro? Il futuro è continuare a sensibilizzare nelle scuole i ragazzi, il corpo docente, gli studenti e arrivare a costruire forme di incontro con le istituzioni per far sì che queste possano attuare gli undici punti programmatici che fanno parte della manifestazione di oggi. Ci sarà una nuova regione tra qualche giorno ai nuovi governanti cosa chiedete già come impegno per Crudone e per la provincia? Chiediamo di smetterla di trasformare questa nostra città in una pattumiera, di investire economicamente per migliorare la qualità della vita nelle nostre città sia da un punto di vista ambientale ma da tutti gli altri punti di vista, infrastrutturale e del lavoro. Perché non può essere una città come Crudone marginalizzata e ridotta allo stile ma così come è stata anche dalle politiche regionali. Su questo noi vigileremo. Sappiamo anche che in questo momento siamo senza un'amministrazione comunale quindi aspetteremo di capire come si svolgerà la questione democratica della nostra città quando si voterà per dire ai prossimi candidati a sindaco che questi punti programmatici non sono punti programmatici di una parte della città ma dall'intera comunità cronese. Grazie a tutti.